Subito dopo è salito sul palco Don Luigi Ciotti, il presidente di Libera, e lo dicevate da studio, fra le cose che lui ha detto, ha anche dato un altro appuntamento a questo popolo, ovvero il 17 aprile prossimo, davanti al Tribunale di Roma, dove il GIP è chiamato a decidere se archiviare l'inchiesta sul duplice omicidio dei nostri due colleghi, Ilaria Alpi e Miran Rovatin uccisi in Somalia, Mogadiscio come chiesto dalla procura di Roma. Ma torniamo alla giornata di oggi e alle voci che abbiamo raccolto oggi nel corteo.